Nato e cresciuto a Roma. Ha sfruttato il suo fisico scultorio per interpretare circa 80 film a partire dagli anni 60. Il 22 aprile 2015 ha ricevuto al Busto Arsizio Film Festival un premio per la sua carriera nel cinema avventuroso italiano. Il premio gli è stato consegnato dai critici Steve Della Casa e Marco Giusti.